Ciao bellissime! Allora, piccolissimo video per chiedervi, sono Mariccia, come posso realizzare delle intro da mettere davanti ai video? Prima domanda. Seconda domanda, se mi dite come si realizzano, come si fa a metterla davanti al video? Queste sono domandiche, cioè, se potete rispondetemi, perché comunque almeno farò delle intro prima dei video, al posto che dirvi sempre, iniziare sempre con Ciao bellissime, prima magari ci sarà tutta la intro e poi ci sarà Ciao bellissime, ecco. E poi che vi volevo dire, perché io già ne ho realizzate tre, molto carine, con un'applicazione che si chiama Intro Video Light, mi sembra, Intro Video Video Light, però non so come si mettono davanti ai video, quindi se anche voi avete questa applicazione, ditemi tutto per favore, per favore, per favore, è un desiderio nel cassetto per ora. E nulla. Ah, vi volevo dire, scrivetevi subito, subito, perché entro le 11, cioè le 11 in punto, farò l'estrazione e farò il video per dirvi chi avrà vinto. Quindi preparatemi ragazze, perché tra poco ci sarà una vincitrice. E nulla. Ci vediamo alla prossima, quindi rispondete a queste domande, per favore, per favore, per favore. E nulla. Ciao bellissime, alla prossima.